Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Martina Colombari dice basta alle critiche e ai giudizi ingiusti che da mesi le vengono rivolti. L'ex Miss Italia, già apprezzata per la sua partecipazione a Pichino Express insieme al figlio Achille Costacurta, è stanca dei continui attacchi personali. La visibilità di Achille, però, ha portato anche alla luce delicate vicende familiari. Solo cinque mesi fa, il ventenne aveva condiviso foto sui social che ritraevano polverine rosa e banconote, accompagnate da commenti polemici verso la madre. Dopo settimane di assenza, Achille ha raccontato al settimanale di più di aver vissuto un periodo difficile segnato da dipendenze e un uso smodato dei social, paragonati a una droga. Per riprendersi, si è trasferito a Marbella, dove ha affrontato un percorso di riabilitazione. Nel frattempo, Martina ha continuato a subire critiche feroci anche sul suo aspetto fisico. Gli stereotipi limitano e sono una forma di violenza, ha dichiarato oggi, 29 novembre, mettendo fine al silenzio.